La legge 107 del 2015 ha introdotto in maniera obbligatoria l'alternanza scuola lavoro. Praticamente gli studenti degli istituti tecnici e professionali sono obbligati a svolgere 400 ore di percorso che si svolge nelle aziende. Per realizzare il percorso di alternanza c'è quindi l'impiego sia del docente che diventa tutor scolastico che il responsabile o un addetto all'azienda nel quale il ragazzo o lo studente deve svolgere l'alternanza che diventa il tutor aziendale. Il progetto di alternanza scuola lavoro condiviso con l'azienda agricola Bufano nasce da un'esigenza formativa del territorio che è quella di formare un tecnico specializzato nel marketing e nella comunicazione dei prodotti agroalimentari della Valle d'Itrea. Il progetto di formazione in alternanza scuola lavoro ha coinvolto due studenti del corso di viticoltura e enologia. Il progetto ha previsto per il terzo anno attività che riguardano la produzione dei prodotti e al quarto anno la commercializzazione e marketing dei prodotti stessi. Perché hai aderito al progetto di alternanza scuola lavoro? Perché sono stato anche io uno studente della vostra scuola e anche perché è importante per i ragazzi iniziare a toccare con mano la realtà, introducendosi nella società al fine di capire l'indirizzo scolastico che hanno scelto. Poi anche perché immaginiamoci che l'azienda sia un vivaio nella quale andare ad allenare i manager del futuro. L'alternanza scuola lavoro vi dà la possibilità in corso d'opera anche di cambiare rotta. Cioè voi avete preso la specializzazione in viticoltura e enologia? Perfetto, state toccando con mano ora cosa significa. Nulla toglie che possiate anche nell'ambito del contesto agricolo scegliere di specializzarvi in un altro contesto. Ovviamente io cercherò di farvi innamorare della viticoltura. Poi sta a voi giudicare e fare le scelte giuste. Buongiorno a tutti, siamo due studenti dell'Istituto Agrario di Locorotondo, Martino e Donatello. Siamo svolgendo il nostro percorso di alternanza presso l'azienda agricola Bufano. E quest'oggi svolgeremo un wine testing abbinato al food dei prodotti tipici del nostro territorio. In questo piatto presentiamo il capocollo di Martina Franca, tipico del territorio martinese. Abbiamo alcuni prodotti caseari derivanti da latte vaccino e abbiamo delle friselline con pomodorini tipici del nostro territorio, in modo particolare di quello fasaniese. Questo piatto lo abbiniamo perfettamente al nostro biancofermo semi-aromatico, il fiano minutolo. Iniziamo l'analisi sensoriale con un esame visivo. Questo vino lo considererei cristallino, giallo paglierino con riflessi verdolini. Ruotate il bicchiere e vedremo che è abbastanza consistente. Siamo qui questa mattina con la proprietaria dell'orleficio d'Amico di Cisternino. Spiegaci un po' cos'è questo olio extravergine d'oliva. Allora, l'extravergine d'oliva è un prodotto nato da un frutto sano, raccolto alla giusta maturazione, quindi a metà invaiatura, consigliamo noi, raccolto unicamente dall'albero e molito entorno alle 12 ore. Questo per garantire un'ottima qualità a livello nutrizionale e organolettico, quindi basso grado di acidità e ottime note nutrizionali. Siamo con il titolare del salumificio Santoro. Giuseppe, ci spieghi un po' cos'è questa meraviglia? Voi siete oggi nel territorio della Valle d'Itria, dove si produce un prodotto tipico che è il capocollo di Martina Franca e noi siamo un'azienda che rappresenta un po' la produzione principale del prodotto tipico. Cos'è il capocollo di Martina Franca? È un prodotto che lega una tradizione norcina di questo territorio nata secoli fa, che ancora oggi viene operativamente fatta con la stessa tecnica, con la stessa artigianità e con la stessa ingredientistica. Questo è un piatto di orecchiette con colori e profumi tipici della Valle d'Itria. Le orecchiette sono fatte con farina di grano duro, varietà senatore cappelli, e il pomodoro reggina, che come prima abbiamo citato è prodotto nel territorio di Fasano, e cacio ricotta. Questo vino lo abbiniamo perfettamente al nostro piatto di orecchiette. Questo è un primitivo spumantizzato prodotto sulle terrasse di Locorotondo, della dieta di Bufano. Questo è un brut. Siamo con la titolare del pastificio Cardone, ubicato nel territorio di Fasano. Ci spiega un po' cos'è il grano senatore cappelli? Allora, il grano senatore cappelli è una varietà di grano molto antica. Oggi questa varietà di grano è riscoperta dal nostro pastificio, in primis per produrre le semole con cui realizziamo la pasta, grazie alle sue proprietà. Infatti il grano senatore cappelli dà origine a delle semole, poi quindi a della pasta, ricca di proteine, di antiossidanti e di fibra. Siamo qui con il cozzo di Filippo, proprietario della maggiore dell'osfizzietto di Cisternino. Filippo, cos'è la bombetta? Allora, la bombetta è un involtino di carne ottenuto dalla coppa di suino. Che legame ha la bombetta con il nostro territorio? La bombetta è dagli anni 90 il prodotto trainante dell'economia del nostro territorio. Le bombette sono degli involtini di capocollo di maiale, ripieni di formaggio, sale e pepe. Questo vino lo abbiniamo perfettamente alle nostre bombette. Questo è un primitivo prodotto nelle nostre terrazze, qui all'Ocorotondo. Osseriamo il vino. Cosa fare la sera quando si esce in comitiva e si pasteggia con vino? Intanto bisogna dire che nel momento in cui si esce il sabato sera bisognerebbe scegliere uno tra i compagni che non deve assolutamente assumere nessun tipo di sostanze alcoliche. Se questo si verifica, occorre temporeggiare anche un'ora perché un drink o un bicchiere di vino o un cicchetto di vodka può essere smaltito nel giro di un'ora dal nostro corpo. Quindi occorre attendere almeno un'ora tra un drink. Se si è bevuto due drink bisogna attendere appunto due ore senza mettersi alla guida. Veniteci a trovare per rendervi conto di tutto quello che abbiamo da proporvi. Inoltre tutti dobbiamo diffondere il messaggio che l'abuso di alcol noce gravemente la salute. Bere durante i pasti, con dovute precauzioni, contribuisce ad apprezzare il vino con piacere.